Bella regà, ciao ragazzi, se becchiamo l'ultimo dell'anno, ci vediamo l'ultimo dell'anno, con il DJ Time, con il DJ Time, Alberti, Farget, Bole, Prezio, Albertino, Fargetta, Bolella, Prezioso, al palazzo, al palazzo dei congressi di Roma! Allora, capodanno con il DJ Time, a Roma! Allora, capodanno con il DJ Time, a Roma!